Il bilancio dei ritiri vocazionali di Quaresima dalla voce di Don Simone Bellisi, direttore della pastorale vocazionale. Anche quest'anno siamo stati molto contenti, non solo per la quantità di persone che hanno partecipato, ma anche per la qualità. Noi ogni anno organizziamo molte di queste esperienze perché riteniamo davvero importante iniziare a parlare di vocazione fin dalle medie e dalle scuole superiori. Infatti la chiamata del Signore, diciamo così, ha i suoi primi sviluppi proprio in questa fascia di età. È chiaro che è ancora germinale, però è importante approfondirla e conoscere anche l'esperienza proprio per poterla approfondire in seguito. Le nostre esperienze sono varie da questo punto di vista. Abbiamo esperienze per i ragazzi, gruppo ragazzi in cammino, scuole medie e prima superiore, gruppo giovani in cammino, seconda quinta superiore. Con i ragazzi in cammino facciamo quattro fine settimana durante l'anno. Con i giovani in cammino facciamo due fine settimana, ogni mone di pomeriggio qui in seminario, un'esperienza di vita comunitaria che gli aiuti a prendere visione e conoscenza proprio della vita, del seminario, delle esperienze che qui si fanno. In più facciamo una settimana comunitaria in quaresima e un pellegrinaggio a piedi a Fiorano durante il mese di maggio. Per questi gruppi poi vengono fatti anche i campeggi estivi alla Santone nel mese di luglio. Inoltre abbiamo un'esperienza anche per le ragazze. Il gruppo è chiamato Sarai, dalla prima media alla quinta superiore. Anche per loro facciamo durante l'anno alcuni ritiri spirituali nei fine settimana. Infine abbiamo il gruppo Ora Decima, al quale sono invitati i giovani dai 19 anni in su, ragazzi e ragazze, che si svolge quattro volte all'anno, alla domenica pomeriggio, e sono anche questi momenti di spiritualità e di preghiera per approfondire la propria vocazione e il proprio percorso di vita spirituale. Don Simone ha anche ricordato gli appuntamenti estivi in programma alla Santona. Quest'estate faremo una settimana alla Santona per i ragazzi in cammino e una settimana per i giovani in cammino sempre alla Santona. Quest'ultima sarà insieme ai seminaristi nel periodo in cui loro fanno, diciamo così, la vacanza estiva, il soggiorno estivo alla Santona. Ecco, per partecipare occorre chiamare in seminario entro la prima settimana di giugno, fornendo nome, cognome, indirizzo, parrocchia e numero di telefono.